E' lì scusa. E' la vita di quello che era. E' una bella. Stanno tutti i miei stagani. Mi era giunta la voce, ma non ho più più chiesto veramente. Sto facendo la domenica. L'ho conosciuto perché l'ho conosciuto? Non so. Sono interessati. L'ho conosciuto perché l'ho conosciuto perché l'ho conosciuto. E' una bella. Non so, però se era molto lì. Non ciò che era? No. Non c'è la notazione. La metà non ho mai risolto di una. No. E lui ha, chi ha? Eh. Grazie a tutti.